Mamma mia! Era ora che finiva sta partita, non ce la facevo più! Mandata pure via la voce! Parliamone perché c'è tanto da parlare e c'è tanto di cui discutere. Finalmente, regà! Mamma mia! Mamma mia! Allora, io ve lo dico... Mamma mia! Non c'è più fiato, ve lo dico subito, sono ammalata e quindi parlerò in modo molto confusionato, Confusionario, ecco, per farvi capire come so. Espugniamo il Bentegodi con rigore di Piontek! Finalmente! Finalmente! E adesso tutti quelli che dicevano che la maledizione della 9 esiste, che Piontek aveva finito delle cartucce, ovviamente, si sono andati beatamente a nascondere. Arriviamo al derby con tre punti in più, ma dubito che riusciremmo a espugnare l'Inter a San Siro. Allora, parliamo della partita perché c'è tanto di cui parlare. Abbiamo preso i tre punti? Sì! Abbiamo vinto? Sì! Soffrendo? Sì! Ma ragazzi, non c'è gioco! I schemi di Giampaolo non si vedono, sono contenta che sono arrivati i tre punti. Con un rigore, ma chi se ne frega, almeno mettiamo a tacere un po' di persone, perché anche basta. Però qua, cioè, non si vede un gioco, non si vede uno schema. In campo vagano come se fossero fantasmi. Cioè, è come se non si conoscessero. È come se ognuno stesse giocando al proprio calcio. Il primo tempo del Milan è stato molto, 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 molto in confusione. Tutti. Suso, vabbè, Suso io non lo voglio più vedere, ragazzi. Ma penso sia il pensiero di tutti i milanisti. Cioè, ragazzi, Suso oggi ha fatto schifo. Magari nel secondo tempo un po' si è ripreso, ma Suso ha fatto schifo. Suso è inguardabile. È inguardabile. Poi, quell'altro di Cialanoglu, che nel primo tempo praticamente non si reggeva in piedi. Cadeva come una pera da solo. Vabbè. Comunque sia, andiamo a parlare del secondo tempo. Decisamente meglio del primo. Anche se, comunque, ripeto che l'Iter è sempre quello. Il Milan non ha uno schema. Non ha un gioco. Tutti sono in confusione. E' arrivato il rigore, giustamente, perché Gunther aveva il braccio un po' troppo. E quindi il rigore segnato dal nostro nuovo rigorista, nonché il nostro pistolero. Tra l'altro, piccola parentesi, io ho detto a mio padre, se questo non segna sul rigore, io alla maledizione della nove ci credo, perché se no non è possibile. Fortunatamente non è così. E nulla. Dopodiché abbiamo cominciato a creare di più, per quanto possibile, ovviamente, per quanto è nelle possibilità del Milan. Tant'è che ha segnato di nuovo Piontek, però è stato annullato giustamente per farlo sul portiere, per quanto riguarda Piontek. E' giustissimo, tra l'altro, averlo annullato. Dopodiché è stata una sofferenza totale, perché ha annullato il gol. Hanno cominciato a fare come gli pareva. A parte che il Verona ha dato cazzotti a destra a Manca, a Stepinski. Giustamente è stato espulso nel primo tempo, perché ha dato un calcio in faccia a Musacchio. Giustamente, aggiungerei. Arriviamo al novantatresimo. Non sai che è successo vicino all'area di rigore. Gomitata di Calabria, rosso. E Calabria salta il derby. Porca miseria. Giusto, la gomitata... Ragazzi, allora, in quell'azione, la gomitata di Calabria, espulsione, tra l'altro, ci sta tutta la vita. Perché Calabria gli ha dato proprio una gomitata in faccia. Ma l'azione prima era fuorigioco. Tu dovevi fermare l'azione perché c'era il fuorigioco precedente. Vabbè, punizione al limite dell'aria per il Verona. Mi stavo cagando sotto perché all'ultimo tiro, all'ultimo secondo, praticamente vicino alla porta, mi stavo cagando in mano. Meno male. Finalmente, sti 96, che erano 96 minuti di supplizio, sono finiti. Parliamo singolarmente. Donna Roma ci ha salvato le ciappette all'inizio. Probabilmente se non ci fosse lui, non so, avremmo subito un po' di più. Per quanto riguarda la difesa Musacchio-Romagnoli, Musacchio mi piace sempre di più. Musacchio per me sta diventando quasi una certezza, come anche Romagnoli. Per quanto riguarda i terzini, Rodriguez, io sapete cosa penso di Rodriguez, io non lo posso guardare. È lento, si fa anticipare. C'è ragazzi, va più veloce da Son che Rodriguez. Cioè, parliamone. Invece Calabria, Calabria ha spinto parecchio sulla fascia. Si poteva risparmiare la gomitata, salterà il derby, ma chi ci mettiamo? La Conti, chi ci mettiamo? Poi, per quanto riguarda il centrocampo, Biglia, pochi passaggi ma puliti e precisi, molto bene. C'era nell'indispensabile, diciamo, tra virgolette. Che sì, io non lo posso guardare. Nonostante la sua possenza fisica, coi piedi, sembro io con le ciavate. Poi, Cialanoglu, idem, anche se teoricamente ha procurato lui il rigore e teoricamente ha tirato in porta quando Piontek ha compiuto fallo sul portiere. Quindi, giusto questo su Cialanoglu. Invece, per quanto riguarda Paketa, che tra l'altro finalmente l'ha messo trequartista, l'hanno falciato tutto il tempo. Perché, appunto, ultimamente è il più forte del Milan e, giustamente, non lo riescono a fermare, quindi lo tranciano. Infatti, al suo posto è entrato Rebic, esordio. Mi è piaciuto, devo dire la verità, diversamente da molti a cui non piace. A me è piaciuto Rebic, sinceramente. E invece Piontek, pistolero, finalmente si è sbloccato. Infatti, davanti alle telecamere ha fatto così della serie, mozzittisco io un po' di persone. Niente, ho da dire questo. Ah, tra l'altro, Giampaolo, ti ricordo che puoi fare più di un cambio. Ne puoi fare tre in una partita, te lo ricordo. Perché ha messo su giusto Rebic a inizio secondo tempo, poi basta. Quindi, i cambi servono falli. Ok? Tipo Suso doveva uscire. Tipo Rodriguez doveva uscire. Tipo Cialanoglu doveva uscire. Giusto per. Comunque, non fa niente, sono contenta. Arriviamo al derby con sei punti, sì. Sei punti in tre partite, ok. Per il Milan che c'è adesso è ok. Tra l'altro, ragazzi, piccola parentesi. Non potrò vedere il derby perché è il giorno prima del mio compleanno. e non potrò proprio materialmente vederlo. Vi terrò aggiornati su Instagram. Niente, seguitemi lì, Cristina.Tassi. E la nostra pagina è anche oggi, vinciamo domani. E due, perché c'è il due. E nulla. Forza Milan, forza Milan, forza Milan.